Indosseranno i costumi d'epoca e rappresenteranno le famiglie nobili di un tempo. Il protagonista sarà il barone Lanzirotti, accompagnato dalla moglie, la baronessa Angelina Giordano. L'iniziativa dell'Associazione Arte e Tendenza, abbracciata dal comune Nisseno, prima della solenne apertura del ballo, comincerà con un cortè in costumi storici del 1850, in centro storico, domenica 18 settembre, prevedendo un omaggio floreale al busto di Tripiciano, con la deposizione di una corona dall'oro. È la stessa associazione che chiede a noi, che amiamo appunto la storia di Caltanistetta, di mettere in evidenza questi personaggi importanti che hanno fatto il loro lustro e la storia, anche perché Caltanistetta nell'Ottocento vive un momento, io direi magico, proprio è la massima espressione dell'arte e della cultura. E quindi abbiamo pensato di dedicare questo ballo dell'Ottocento in onore a un grande mecenate che fu appunto il barone Guglielmo Luigi Lanzirotti. Perché ho detto mecenate? Perché fu lui che fece, tanto per la nostra città fu anche sindaco, ma la cosa particolare è che fece studiare proprio a spese proprie, quindi un grande mecenate, al nostro scultore Michele Tripiciano. Michele Tripiciano infatti sarà il suo pupillo, ma non solo, ma anche lui a Roma, facendolo studiare a Roma, che ebbe i grandi maestri dell'epoca, darà soddisfazione al barone Lanzirotti. L'atrio di Palazzo del Carmine farà un viaggio nel tempo. Con il ballo del barone Lanzirotti si catapulterà nella seconda metà dell'Ottocento. Si cerca di mantenere viva dunque la memoria e ricordare la figura del barone, ma anche di far vivere l'atmosfera di quei balli che in quel periodo venivano organizzati anche nella cittadina nissena. Ci saranno all'incirca 40 figuranti, tutti quanti in costume accuratamente storico, quindi parliamo del 1860, quindi ci sarà anche un corteo oltre al ballo. e questi figuranti naturalmente interpreteranno tutti i nobili e tutta l'aristocrazia di quel periodo, con i famosi nomi che erano a Caltanissetta in quel periodo, queste famiglie nobili. Il ballo è così suddiviso. All'inizio ci sarà proprio l'apertura solenne delle danze da parte dei padroni di casa, quindi l'attore che interpreta il barone Lanzirotti e la baronessa Angelina Giordano apriranno le danze con un waltzer solenne e poi ci saranno una serie, ci sarà anche un cerimoniere che dirigerà i balli e poi ci saranno una serie di balli dell'epoca, parliamo di quadriglie, di waltzer, di cotillon, di polche e tante altre che non sto qui a dirvi. Ci saranno anche dei momenti musicali, quindi un soprano, un'arpista, come intermezzo durante la serata, anche un giocoliere di fuoco, perché proprio avveniva così che i nobili invitavano diversi artisti nelle loro case per arricchire il ballo.